La retorica del merito La regione ha tolto 5 milioni di euro alle borse di studio lasciando più di 4 mila studenti privi dell'unica fonte che hanno per poter studiare. Per questo motivo noi oggi siamo qui a Venezia per chiedere alla giunta regionale di tornare indietro dalla mano decisione, restituire i soldi delle borse perché non ci può essere un'equità se non diamo a tutti il diritto di studiare e di formarsi. È l'articolo 34 della nostra Costituzione. La regione ha tolto 5 milioni di euro alle borse di studio lasciando più di 5 milioni di euro alle borse di studio lasciando più di più. Le università, mi piangiamo solo nella situazione economica disperata per l'Italia e il governo. si trovano senza la possibilità di colare le borse di studio agli studenti poveri e meritevoli che vorrebbero continuare a studiare. Oggi siamo qui per protestare via l'assessore Donattham e a tutta la giunta regionale quando vanno l'incontro con i lettori di ritirare questo provvedimento e finanziare subito il diritto allo studio. Vogliamo le nostre borse di studio e le vogliamo oggi! Buon Icegate! 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 Buon Icegate!